Mi fa grande piacere annunciarvi che è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il decreto sblocca cantieri, un provvedimento importante che rientra in una strategia più ampia. Con questo testo infatti mettiamo subito mano alle misure più urgenti per far ripartire innumerevoli opere piccole e grandi che siano in giro per l'Italia, per tutto il Paese, accogliendo così le richieste più pressanti che ci sono giunte proprio dalla consultazione pubblica di cui parlavamo.